Il gruppo vuol dire due cose, uno è la bevanda dei pirati, che non è un'invenzione, una bevanda che è veramente esistita, che è una mistura di rum, un po' delle da sparo, peppe, varie porcate, eccetera, una cosa veramente da spaccarti, fregato, eccetera. L'altro, il grog è un drago, un drago mitologico, che praticamente è una sorta di ladro, protegge il tesoro, si sta nella sua caverna, protegge il tesoro, ma è il tesoro che lui stesso ha rubato, ok? E niente, quindi, siccome a me piaceva vedere questa cosa massiccia, immensa, che chiaramente è un drago, che in più è un custode di tesoro, ma al tempo stesso è un drago, e niente, e questi sono i due significati della madrugazione. E' come se fosse una sorta di evoluzione dell'elefante bianco, un po' meno tecnica, un pochettino più semplice, ed è una cosa, ripeto, come tutte le cose che faccio io, è nata per gioco, da un'idea mia, di Gianni Solino, diciamo che è il co-leader della band, lui era un grandissimo fan, un appassionato di elefante bianco, e si è deciso di fare una sorta di recupero, siccome comunque sono rimasto appassionato di elefante bianco, mi hanno detto perché no, praticamente i groghi è metà scaletta del concerto, canzoni nuove, e l'altra metà è praticamente la pandemia. Quello che è vero, quello che succede, uno è a favore dell'eutanasia, cosa ne so, c'è un po' di tutto, anche la rabbia con tutto ciò che ti circonda, a livello umano, non dico politicamente o economicamente, quello che ci circonda, l'insensibilità della gente, io giro sempre con la nostra cosa, quella superficialità, di essere diventati dei fenomeni mediatici, perché mai noi, in grande popolazione, siamo dei fenomeni mediatici. una parentesi sul gioperrino solista, siamo anche casualmente in un ex questura, no? si, l'ho visto, l'ho visto le cellule, adesso per un motivo per l'altro, sono sempre intorno a carceri o situazioni, anche perché ho fatto un disco di canzoni di malavita, che è incredibile, è stato successo, adesso ho fatto riuscire il prossimo, e praticamente non ho fatto altro che recutare, riarrangiare delle canzoni, diciamo, di popolari, ormai sono delle canzoni, diciamo, di uso comuno, delle canzoni che si possono dire, dei tradizionali, io le ho riarrangiate, le ho visto un pochettino, alcune addirittura le ho scritte di mio pugno, proprio sempre prendendo spunti da vecchie cose, e ho fatto questo lavoro qua, per fare in modo che delle cose che ne hanno buttate via, soltanto dei demo tape o delle cassette che nessuno conosceva, per fare in modo che diventassero un pochettino più popolari, più note, e anche per risvegliare un pochettino la coscienza della gente, perché la gente molto volte non si rende conto della situazione carceraria, io ho avuto l'opportunità di suonare per i carceri, anche se le canzoni sembrano buffe, ma i testi sono molto, molto venditi di significato, sono molto sofferte, sono canzoni che la gente si è iscritta, talvolta sulla penna, perché la situazione carceraria italiana è veramente un disastro, infatti si dice che a livello di civiltà di un paese lo si dovrebbe vedere da come sono le carceri, e da noi è un disastro, è un carcere come quello della casa circondariale di Boncarmino, quello di Caglia, dove ho suonato, ho fatto uno spettacolo per i detenuti, e praticamente è sovrappopolato, cioè sono praticamente tre volte tanti, invece di essere tre o quattro persone in cielo, dovrebbero essere anche di sei in otto, è veramente un disastro. L'Operaio Romantico è un progetto che ho sempre avuto, diciamo, l'ultima fase viene fatta in bianco, io avevo già il progetto Operaio Romantico, infatti penso che condividevamo anche la sala progetto, no, niente, la voglia di, stanco di sbamba da mamma, di pestare, di pestare, di pestare, e poi mi piace, è una cosa che mi piace tantissimo, se mi dovessi chiedere la cosa a cui sono più affezionato, è proprio quel progetto lì, da quanto mi piacciono i blog, Rolling Gangster, le cose del passato di Gioppina, però è la cosa che mi emoziona particolarmente, che mi fa venire la pelle d'oca, e mi fa scendere le lacrime, è un'operaio romantico, in quanto sono su parte, che fa parte di una parte della mia vita veramente difficile, c'è il periodo quando mi stavo separando dalla mia ex moglie, erano un sacco di problemi eccetera, quindi i test e le canzoni sono proprio pregne di disagio, di disperazione e cose, e le sento proprio le canzoni, anche se poi chiaramente mi sono evoluto, sono andato avanti e ho fatto altro, sono canzoni che parlano di mio figlio eccetera, però sono veramente io, accetto la persona comunque, senza maschera, senza niente, come vedi sto facendo un intervista, non ho niente da nascondere, c'è una moto che fa un casino molto utile, e mi dico, ma ti sei sempre la montagna? no, non ho niente da nascondere, perché quando sto arrivando mi sento, mi annuncio, non sono un lago, non sono nessuno, sono rock e roll scene. particolarmente la scena, anche perché non ho più voglia, devo essere sincero, non me ne frega niente, penso al mio orticello e boh, però ci sono sicuramente dei gruppi notevoli, ma ci sono sempre stati, io ad esempio, uno dei miei gruppi preferiti sardi, sono un gruppo di qua, di sassari, che sono i primi tipi, li adoro, li ho visti dal vivo una volta, a un gran numero di motociclisti, e a fine concerto sono andato da loro, gli ho detto, cacchio siete fantastici, il peccato è che siete in Sardegna, e non farete mai niente, se forse a Londra, o che cavolo ne so, in un'altra città d'Europa, eccetera, sarete sicuramente uno dei gruppi più interessanti, eccezionali, io li adoro, e comunque ripeto, che tornando al discorso generale, in Sardegna ci sono sempre stati un sacco di gruppi, infatti, il continente ci... il problema è che siamo isolati, 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 abbiamo dei costi, per andare a suonare fuori, che sono chiaramente maggiori, cioè se io, stasera, non potrei andare a suonare a Bologna, ma se abitassi a Firenze, potrei andare a suonare, cioè hai capito, noi abbiamo dei costi altissimi, quindi non siamo competitivi, quindi per essere competitivi, ci dobbiamo fare un mazzo a tanto, però visto ultimamente, guardando su internet, ci abbiamo attualmente, in giro per l'Italia, ci sono King Gold Quartet, Siki Tiki, un altro paio di band, che sono in tournette in Italia, adesso ho incontrato uno di loro, l'altro giorno è che non mi sia stato successo, io quando vedo queste cose, invece di essere invidioso, come molti stronzi, sono contento, applauso, capito? è bello, perché vuol dire che stai lavorando, stai tirando fuori il nome della Saldegna, quello che mi hanno sempre cercato di fare con Joe Pernino, con il frutto bianco, perché aveva più forte, e ci abbiamo fatto, e che comunque esistiamo, cioè mi raccontava, l'altro giorno io ho fatto Giancarlo Norato, all'ESBI, ho organizzato il concerto io, e il chitarrista mi diceva che, il giorno prima era Rock TV, con il tizio di Marlene & Coots, il Gordino, e c'era un manifesto gigantesco, c'era Littiba, live, Roma, non so cosa, e il Sottogio Pernino, per dirti, ne abbiamo fatto, io, io esisto nel, io sono nelle varie enciclopedie, della musica rock italiana, quella di Renzo Arbile, o della Rusconi, ma un sacco di libri, che ci interessa abbiamo fatto, quindi noi sarti siamo comunque, abbiamo le palle, il problema è che, dobbiamo lavorare il triplo, e faticare il triplo, anche se tu dici, ma adesso c'è la rete, si, ma la rete non ti teletrasporta, a Roma, o a Polona, o a Milano, ed è un macello, però ripeto, la scena Sardegna è sempre stata forte, e continuerà adesso, in questa sala, ok.